abbiamo al via i concorrenti appunto della coppa città della pace legati alla auto moderne enrico cohan è pronto al via ecco semaforo verde anche per lui parte questa coppa città della pace anche per la categoria delle auto moderne 9 sono i secondi eccolo uscire dal pettine della trentino va a chiudere il primo split più 4 più 4 è sul secondo 10 i secondi di tempo imposto nel frattempo quadratura notturna per quello che è roveretto 10 centesimi di ritardo sul secondo vediamo come va a chiudere 11 più 2 ovviamente è in prima posizione 5 33 di media la mitica clio williams e avete fatto un 5 33 di media soddisfatti ma considerando che un anno e mezzo che non schiaccia un tubo direi molto 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 bene faceva anche ridere un anno e mezzo che uno schiaccia un tubo sì difatti era anche un certo spirito diciamo però gara incredibile smussi smussi al via su alfa romeo spider 3000 v6 del 1996 federico smussi federico smussi vanno a chiudere anche loro il primo split vediamo con quale tempo 10 settesimi di ritardo secondo split per l'alfa romeo spider meno 19 ed eccoli qua a pochi metri dal traguardo finale con 11 secondi il tempo imposto quasi fermo più 16 più 16 del secondo con 45 penalità totali secondo posto ciao abbiamo 45 penalità totali secondo posto com'è andata male male perché non ci aspettavamo di ci siamo ci alleniamo spesso e però non è andata come le nostre aspettative e va bene come abbiamo margine di miglioramento confermo grazie grazie mille siamo passati di colpo al 2005 con questa mini cooper che vede a bordo giorgio sartori navigato da morena tartali ac verone storic la scuderia ovviamente essendo vetture moderne si arriva dal 90 al primo gennaio 91 perché le vetture sono fino al 31 12 sono considerate dalla fiaca la federazione internazionale dell'automobile vetture storiche dopodiché si fa sta la categoria auto moderne 53 penalità per loro sui primi due split chiudono il loro impegno la loro fatica con un meno 31 84 ce l'avevo anch'io questa mini come si è comportata la mini benissimo la moglie un po meno e io con la meno no ma ci siamo divertiti è un po' complicata la gara ma molto bella complimenti ciao e adesso andiamo un po lustrarci gli occhi con questa ferrari 488 gtb del 2017 con a bordo fabio vergamini navigato da anna fabrizi loro partecipano a tante di gare delle gare legate al campionato italiano grande eventi più nove infatti vedrete che hanno una buona abilità soprattutto anche i ferrari tribute ai al legend della coppa d'oro delle dolomiti e infatti due sul secondo 5 50 di media per questa ferrari di vergamini non si smentisce vediamo come va a chiudere più tre più tre ed è primo tra le auto moderne avete siete primi nelle auto moderne con questa meraviglia chiudiamo questa power stage complimenti vi siete divertiti grazie ci siamo divertiti molto una gara molto impegnativa non è questo non è le non sono le gare per per le nostre automobili però sono dei test importanti perché sono delle gare molto difficili e quindi ci ci piace poi ci piace ci divertiamo oggi c'è stata un po di questa nebbia che ha un po limitato però veramente è stata un'ottima giornata perfetto con un ottimo risultato in termini di tempi bravissimi c'è bene allora andiamo a vedere quello che è la classifica finale anche delle auto moderne primo appunto fabio vergamini anna maria fabrizzi su ferrari 488 gtb del 2017 con 14 penalità secondo posto per enrico cone fabio uliana su reneo clio williams del 93 della pordenone corso 16 penalità e dal terzo posto federico smussi e gianluigi smussi su alfa romeo spider 3000 v6 del 96 45 penalità chiude giorgio sartori con morena tartali su mini cooper s2 del 2005 ac veronisto icon 84 quindi si chiude qui quella che è la giornata legata alla club acistorico power stage qui da rovereto ancora un saluto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti